E si torna a scendere in pista. Altre sfide, altri splendidi duelli. Tra fuoriserie che sognano a lunghi o sorpassi e con vogli alla ricerca di punti salvezza, tutti sono in corsa. Siamo allo start del prossimo turno. Mettiamoci dunque in viaggio sull'autostrada delle emozioni di Fontina Calcio Show. In prima categoria, Girone C, il Città di Fiumicino ospita il Passo Scuro. Dopo il passo falso contro la Virtus Pomezia, l'obiettivo è la vittoria. E siamo al Supergruppo G. La Ione Ardea torna tra le mura portafortuna del Selva De Pini contro il Real Vallemarina Fanalino di Coda. Mister Del Grosso non vuole alibi. L'obbligo sono i tre punti. E' già decisivo lo scontro tra Montello e Indomita Pomezia. I Pomettini per uscire dal guado della zona retrocessione. Mister Colucci per non allontanarsi dal podio. Lì dove regna il Lido De Pini, chiamato ad una prova delicata in trasferta contro la Virtus Nettuno. Seconda categoria, ventesima. E' derby di fuoco tra il Città di Aprilia e il Campo Verde. I ragazzi di Cavicchioli per la vincita. Mister Marella per il bis. E si riaccende a distanza il duello tra Città di Pomezia, in casa contro l'Anubio Campoleone, e il Team Nuova Florida che dopo lo scontro diretto affronta il comunale di Pomezia ormai staccato all'ultimo posto. Saranno scintille tra l'Uni Pomezia e il vittorio Regine Velletri. I Crimson vorranno vendicare il sonoro 5-0 dell'andata. Dulcis in fundo, in terza categoria, Virtus Campo di Carne Torvajanica. I ragazzi di Abballe, dopo un mese di stop, hanno più fame che mai. Questi i best match di domenica, amici. Mettetevi comodi e preparate i popcorn. Questo è lo spettacolo del calcio pontino. Questa è Pontina Calcio Show.